Uè Adele, allora andiamo a fare una quack 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 foto Uè Antilope Bresavola, qui da posto Mi piace, tanto mi piace che la intervista mi piace prima a Modern Time Sì, San Francisco, anche il grande compleanno Ecca piccadrega, ma tendo hate Colocchi, colocchi Deggio è manco Sarete neampare a fare Whatsapp Movie, capito? Vuoi il campione del mondo? Va bene, Whatsapp Movie